Nel libro Sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica, Burr 2001 Rizzoli, con riferimento al grande veggente svedese Emanuel Swedenborg, Kant scrive «Sono scettico con riferimento a ogni caso individualmente, ma riconosco qualche credibilità a tutti i casi presi insieme». E quest'altra frase descrive il dilemma di Kant di fronte al paranormale. La filosofia si trova sempre in serio imbarazzo quando è confrontata con certe storie ed è incapace sia di dubitare impunemente di alcune di loro, sia di crederne altre, senza sentirsi presa in giro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, come da più fonti vi ripetiamo, la filosofia riesce solo a scalfire i problemi dell'essere, perché la filosofia è mente, cioè illusione, mentre la realtà è coscienza. La filosofia si trova sempre a scalfire i problemi dell'essere,